Il pregio di questo libro è che è un libro molto pratico, cioè ci sono tanti consigli, tante dritte per scrivere fumetti, non solo, anche per disegnare, perché poi tu parli anche del mestiere del disegnatore e tre disegnatori ti circondano, quindi potrebbe pure finire in rissa, ora vediamo insomma come va a finire.